Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Giuseppe degli Anifs ed oggi siamo tornati su un nuovo episodio della Road to Division 1 il terzo episodio, siamo in terza divisione, abbiamo giocato quattro partite e siamo riusciti a racimolare solo un punto la squadra è sempre la stessa, ovviamente se avete dei consigli su come migliorarla ditemelo qui sotto che io provvederò andiamo subito, vediamo se le forme fisiche, ok abbiamo tutte le forme fisiche andiamo subito a vedere il nostro primo avversario ragazzi ecco qui il nostro primo avversario e c'è una bella squadra con Diego Alves, De Marcos, quello non lo conosco non lo conosco, Maxwell, Modric, Kouke, Rakitic, Feculi, Griezmann e se non mi sbaglio, Eze Rodriguez, infatti si è Eze Rodriguez ragazzi dovete sapere che c'è tipo una maledizione dei video perché quando registro le partite vanno a finire sempre male forse sarà perché non mi concentro e quindi parlo e via dicendo quando invece non registro le partite vanno super bene e infatti ho fatto un draft e sono riuscito a vincerlo corri, 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 perfetto ogni volta che attaccano è un parto manda Rooney, manda Rooney, l'ha visto, l'ha visto, l'ha visto vuoi Rooney? Non devi sbagliare? Rooney, Rooney, è entrato Rooney devi provare la bomba madonna Santaruni, buona la chiusura dai 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 dai, mandalo, buona prova la botta, il tiro di poco, di poco buona la giocata, buona mandalo è perfetta per Bates e Ganaia, il tiro mamma mia, che corso mamma mia, che corso Leito Bates con un gol spettacolare si coordina occhio, ho fatto la cazzata ci ha regalato la palla ci ha regalato la palla buona la sterzata ancora, Rooney lo fa sedere il tiro al giro che parata come potete notare dalla grafica sei tiri a zero ok, dai diamo, diamo l'hai visto sulla fascia l'hai mandato, Tio Wolcott corri, corri, corri Wolcott la doppia fitta la doppia fitta devi provare la bomba madonna Santa la super bomba di Tio Wolcott oh, ci hanno regalato il pallone ci hanno regalato il pallone non bisogna sbagliare 2-0 sempre lui sempre lui la sua firma non manca mai occhio al quit occhio al quit vediamo se arriva il quit oh no, non arriva occhio è passata diamo a Pedrito diamo a Pedrito allunga questa palla allunga questa palla buona entra in area di rigore la doppia fitta fa sedere l'avversario il giro e la mette sotto la traversa 3-0 ha segnato Pedro mamma mia che partita ragazzi che partita 3-0 e probabilmente adesso quitterà per davvero vediamo oh olè il quit dell'avversario e si va a vincere questa prima partita ottima così ragazzi ecco il secondo avversario di giornata e c'è davvero una bella squadretta con Andanovic Miranda Castan Lewandowski Vidal Douglas Costa Sterling Fernando Zotiago e tutto il resto appresso ha davvero una bella squadretta quindi è molto molto difficile questa partita ma noi con l'entusiasmo della vittoria della prima partita dobbiamo vincere anche la seconda occhio si parte andiamo con Wayne Rooney Rooney se ne sopra due il tiro a giro madre santa occhio entrato in area di rigore ci ha fatto sedere per terra aia aia ci ha fatto sedere per terra Tiago buona la giocata è andato Ericsson mamma mia canzone se la porta sul sinistro perché perché abbiamo recuperata è buona non è fuorigioco Wayne Rooney ancora Andanovic non è possibile non è possibile rovesciata la rovesciata ancora Andanovic ancora Andanovic buona mandalo è andato con Wallcott è andato con Wallcott Wallcott devi provare la bomba e questa volta entra e questa volta entra che è un Wallcott che fai giù da ragazzi stiamo dominando ed è giusto che riusciamo a pareggiare no 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 mamma mia anche a noi anche a noi fa il miracolo e guarda meno male stranissimo che non hanno segnato siamo al 45esimo finisce il primo tempo recupero questa falla grande mandalo mandalo perfetto perfetto diamo Wayne diamo Wayne diamo Wayne 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 Rooney se ne è superato uno se ne è superato un altro la deve passare al centro il controllo è bella il controllo è bella e andiamo così e andiamo così ha segnato Pedro 2 a 1 vai ce la regalano dai che ce la regalano il tiro al giro non va occhio però occhio che arriva Zabaleta Zabaleta la fitta di Zabaleta a superare due avversari buona palla per Ericsson la fitta mamma mia e fallo e fallo e fallo cosa stava combinando Ericsson Cristian Ericsson io direi di farcela toccare e di scaramentare la botta boom cosa ha parato Andanovic cosa ha parato Andanovic è passata è passato il tiro cosa come come l'ha parata come l'ha parata ragazzi ma come è possibile è passato di forza Ericsson è ancora un'ennesima parata non è possibile non è possibile ragazzi qui FIFA ci farà uno scherzetto alla fine ci farà uno scherzetto alla fine me lo sento buona buona devi passarla e fallo e fallo e fallo prendete il fallo prendete il fallo perfetto ci siamo presi il fallo e ora dobbiamo segnare dobbiamo segnare sempre ce la tocchiamo perché Runei non sa tirare punizioni pezzo ma come è possibile anzi Silva anzi Silva mamma mia mamma mia che azione che azione perché oh guardate e segniamo andiamo e questa volta andiamo a questa cacciata Andanovic ci aiutate facciamo in corda per Silva il capitano e finisce si vince 3 a 1 oggi abbiamo vinto due partite abbiamo vinto tutte le due le partite allora ragazzi il video di oggi si può concludere qui come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi al canale pagina facebook canali instagram e tutto il resto appreso qui sotto in descrizione ragazzi volevo dirvi che io vi porto solo due partite non perché non ho voglia di portare di fare un'altra partita ma perché non c'ho il tempo materiale per registrarne tre comunque ragazzi il video di oggi si può concludere qui bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti